Decidere di farla finita a 13 anni quando hai davanti una vita intera, deontologicamente la notizia di un suicidio è una non notizia, nel senso che buona regola non diffondela e per tante buone ragioni di carattere etico e sociale, figurarsi poi se la vittima in questione è una ragazzina di appena 13 anni, nel caso specifico è giusto però parlarne e per un motivo molto semplice, quanto è successo a campagna nella serata appena trascorsa deve servire da monito, la tredicenne infatti ha pianificato tutto, ha appuntato su un quadernino che aveva sempre con sé tutti i passaggi del suo disagio interiore, disagio accertato visto che era in cura da uno psicologo e poi questa lucidità, questa fermezza fa spaventare, preoccupa, tanto più che negli ultimi tempi l'adolescente si era lasciata andare a gesti di autolesionismo che avevano preoccupato e non poco i genitori adottivi tanti strani pensieri fino ad arrivare alla decisione estrema, la ragazzina ieri sera ha scavalcato la ringhiera del balcone di casa per poi lanciarsi cadere da un'altezza di 5 metri immediato è scattato l'allarme, i soccorsi sono arrivati tempestivamente e a loro arrivo la tredicenne era ancora viva, sul posto l'ambulanza della croce amica di Oliveto Citra con il medico rianimatore che ha trasportato la tredicenne dal quadrivo di campagna di dove si era consumata la tragedia al vicino ospedale di Eboli, una corsa contro il tempo per far arrivare prima possibile la ragazza al pronto soccorso in ospedale poi è stata stabilizzata ma le sue condizioni di salute erano davvero molto critiche, troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto al suolo la speranza dei genitori e dei conoscenti giunti all'ospedale si sono fermate dopo 4 ore quando il cuore della tredicenne ha smesso di battere delicatissime ora le indagini condotte dai carabinieri che proveranno a far chiarezza sull'accaduto già predisposta a un'informativa alla procura grazie